Enciclopedie per le masse. Il ministro Tremelloni inaugura a Milano la quinta mostra del libro ordinata a Palazzo Reale. Tra le novità esposte un'enciclopedia a fascicoli. Oltre alle materie tradizionali, offre la volgarizzazione di argomenti e materie che fino ad oggi erano riservati agli studiosi. Per fare onore al boom discografico, la stampa ha stretto alleanza con il microsolgo. Chi ne guadagna è la cultura e gli editori naturalmente.